Tutorial per accedere all'area riservata. Riceverai una mail, cliccherai su accedi e ti manderà direttamente all'interno del sito dove troverai il tuo nome, qui troverai scritto prova perché è la mia, cliccherai su prova, sui miei corsi e ti manderà all'accesso dell'area riservata dove ci sono le registrazioni delle lezioni. Eccola qui, lezioni area riservata. Qui troverai le lezioni divise per moduli di ginastica dolce, non solo pilates, posturale e pilates e all'interno di ogni modulo ci sono una serie di lezioni che sono perennemente, costantemente aggiornate. Da qui proviamo adesso ad andare dentro una lezione, per esempio di non solo pilates, ci clicchiamo dentro, proviamo con la seconda e vedrai anche che potrai lasciare un commento in fondo al video. Una volta completata la lezione, poi potrai segnare, segna come completata in modo da tenere un registro delle lezioni che hai fatto. Questo ti permetterà comunque di ripeterle quante volte vorrai. Bene, una volta vista questa proviamo anche a scorrere le altre lezioni, torniamo indietro prima al menu, scorriamo poi le altre lezioni e proviamo a vedere anche la lezione di posturale. Ecco qui, dove sotto puoi sempre lasciare un commento, è fatto nella stessa modalità. Una volta terminato poi puoi tornare al menu principale con le lezioni. Anche tenere un commento, è succedere, è arrivato l'uniqui che si alle medStriverse. Quindi la lezioni di posturale è troppo forte, è これ anche a delleンパspot прогu사, per arrivare anche a delle mangiaristiche dei mangiare di posturale ciò che difficoltà non siapprocha bene. Grazie.